Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video, un saluto da Giglio e oggi siamo qui di tornare su Fortnite in compagnia della mia ragazza Salve Per andare a spiare il boss Cado Avete presente che nella sala della macchina del tempo ci sono le due stanze esterne? Si vedono anche qui, no? Nella lobby ci sono queste stanze esterne con tutte quelle casse appunto di Cado Bene, il nostro obiettivo è quello di nasconderci lì senza farci vedere dal boss e spiarlo Magari riusciremo anche a trollare qualche team che viene ad ucciderlo, non lo so Vi dico solo che abbiamo scoperto dei segreti del boss che non sapevo io perlomeno fino ad ora Abbiamo fatto tre game in tutto, quindi una challenge anche abbastanza succosa E vi dico solo che sono successe delle cose ambigue anche durante il terzo game verso l'endgame Cosa assurda, io vi invito veramente a guardare il video dall'inizio alla fine Prima di continuare il video, però ovviamente come al solito vi ricordo di utilizzare il mio codice creatore GGYT Tutto grande, tutto attaccato nei codi oggetti di Fortnite Mi raccomando ragazzule, è davvero fondamentale per supportarmi Quindi controllate sempre che sul supporto a un creatore ci sia scritto GGYT Tutto grande, tutto attaccato, anche perché ogni due settimane il codice scade dovete inserirlo Grazie a quello di cuore a chi lo farà, è davvero fondamentale per supportarmi Iscrivetevi al canale se ancora non lo aveste fatto Lasciate un bel mi piace per supportare il video Ora vi lascio i game, buona visione Ok ragazzi, allora, dobbiamo atterrare immediatamente Adesso vediamo un po' come va la situazione Vorrei che comunque Serena venisse con me sotto appunto al bunker di Kado Così almeno possiamo fare gli scherzetti ai team che pushano il boss in miglior modo In due, meglio che in uno da solo soletto Io looterei al volo qua sopra e poi scendo subito sotto il ponte, amore Sperando di trovare almeno un C4 o un Razzariete Che non sarebbe male Non dobbiamo far fuori il boss ovviamente Cerchiamo di far fuori meno roba possibile Trato giusto le impulsi Che però non è che mi facciano impazzire Ma questi... perché sono venuti qua fuori? Ah, forse è che mi ha pingato prima la cosa Maggia Ho trovato Razzariete Ok Mi sta sparando forse... no? Mi sembrava lo sparo di un player vero Il problema è che non ho già più colpi assalto C'è anzi pompa Ok Li ho raccolti adesso Va bene Allora ho... Scillini ma tu sei già full No c'è uno È real Ok Thank you Lascio per adesso le impulsi No mi sparano da dietro Ok Ah? Ah oddio Sì no ma io ho sparato a te Pensa un po' Allora Allora Detto questo Oh Sì Non distruggiamo le torrette sotto Cioè non deve sembrare in alcun modo che qualcuno è passato di lì Tra l'altro siamo fuori safe Quindi dobbiamo sperare che in realtà qualcuno poi arrivi Ma dubito Andiamo Ok Andiamo sotto Comincio a scendere Sì sì E io scendo da qua sotto però Eh scendo da qui così Non attivo niente Ok Ah però io adesso dovrei Aspettate va Allora partiamo da lontano così almeno non distruggo le torrette Aspettate Ok Così questa la smolecolo così Quest'altra smolecolo di là Qualcuno mi ha sparato da lontano No Sono sopra Sono sopra Ok Non lutare nulla No come c'è gente davvero? Sì No era perfetto Eh vabbè T'ha proprio visto entrare questo Allora vieni andiamo dentro allora corri Eh dobbiamo sperare che comunque vengano verso il boss Allora non lutare nulla Non aprire niente Accovacciamoci Speriamo che sia lontano Eccolo là Sta a destra Quindi noi dobbiamo passare quatti quatti verso sinistra Vieni 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 Ok Ok Allora Noi ci siamo Il boss sta qui raga Vedete Che fa cose Sull'altare Va bene Ok Sull'altare Vabbè sì Sulla macchina del tè Diciamo vabbè In un certo qual modo è il suo altare se vogliamo Adesso c'ha la lama Dobbiamo sperare però che qualcuno arrivi Ma soprattutto Lo sai mi sa che passa qua dentro? No 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 Oddio Aspettate raga Qua sta roba è più ansiosa di quello che pensassi È molto ansiosa questa cosa ragazzi Ok li hanno spottati mi sa che stanno scendendo Ok Vi prego venite venite Anche perché tra poco arriva la tempesta ragazzi eh Vediamo lui che fa comunque Quando si ferma lì che fa? No niente Cioè ovviamente fa il giro della sala E quando passa davanti alla macchina del tempo Eccoli Quando passa davanti alla macchina del tempo Si ferma tipo ad adorarla in qualche modo Allora senti un po' di spari In caso io c'ho anche questa Ok Perché ho preso il parco dalla scopa e mi è rimasta quella Ok Ok Gente che plana Ma comunque i passi che ci segna Non vorrei che siano proprio quelli di cado anche Sì a cado a cado Ma è possibile che prima non ce li stesse segnando? A me li segnavo prima Ok allora io non me ne ero accorto Allora Eh vedete lui pregunte quando arriva lì sulla macchina del tempo Si ferma lì a ridere Vediamo se fa sempre lo stesso giro Si fa pregunte qui due tre passi verso di qua E poi se ne arriva di là Quelli che mi fanno venire l'ansia Esatto Esatto Ma regà Qua fuori stanno Eh ma loro si stanno a scannare Sì si stanno scannando di brutto ma non scendono Ah io direi che poi rimaniamo un pochettino qui anche quando arriva la tempesta Ci proviamo almeno Eh però raga qua la situazione diventa drammatica Dai ma raga ma erano scesi Secondo me era quel team lì di quel miaoscolo scheletrico Ma Eccolo Un altro Questi stanno palesemente e qua fuori stanno Perché non vengono verso cado? O per la tempesta? Non credo pensino che sia stato già ucciso Perché quando uno lo uccide appunto partono tutti gli antifurti del caso Eh questo sta ancora Madonna mia ragazzi Eh sta per arrivare la tempesta regà Direi che comunque aspettiamo un pochino e basta Però Mamma mia che sfiga raga Eh non credo che con la tempesta qualcuno arrivi da cado eh Però aspettiamo un pochino Vediamo anche dov'è la prossima Speriamo vicino Col cavolo Cioè proprio la più lontana possibile ragazzi Cioè ci sono capitate le due tempeste più lontane No lui si sta triggerando Eh sta a prendere danno Sì È per quello E infatti qua ragazzi rispondiamo alla domanda Che succede quando prende danno dalla tempesta Ma non è triggerato da nessuno Lui però sta fermo lì eh Lui però sta comunque È triggerato Ma sta fermo lì Perché non capisce chi le fa danno Eh sì poverino è un cucciolotto Guardalo guardalo Eh ma io non ho cure vita adesso che noto Poi cure vita Ho la pizza e basta Ok questo è un problema Perché dovremmo provare a riuscire a lutare le ceste leggendarie Eh possiamo correre Eh ma lui sta così Provo eh Eh ma ti vede eh No non ti ha vista No si ti ha vista Ah ma qui hanno aperto le ceste ma non sono venuti Ma è morto Perché è morto Perché è morto raga No raga Ah cioè doveva essere un video Dove trollavamo quelli che arrivavano qui al bunker Alla fine è diventato un video No 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 raga non era finita la vita o sbaglio No comunque veramente raga Qua hanno aperto le ceste ma non sono venuti da cato Però posso dire che fanno bene Cioè cado alla lama che è fortissima Però ci fermiamo lì raga Cioè l'arma mitica di Mida lascia un po' il tempo che trovo attualmente Eh vabbè Allora mi porto il Medinebbia e andiamo Eh vabbè proviamo a vincere sta partita Poi magari ci proviamo con un altro game ragazzi Mannaggia raga che ride però che ride Hanno aperto qua Ah no ho aperto due ero Sì qua no qua ho aperto io Infatti speravo che qualcuno entrasse da qui Tra l'altro è partita anche l'altra tempesta amore eh Ok brava che è la scopa Anche perché non ho le cure vita Ah vabbè raga dai stavolta siamo stati sfigati come al solito per le challenge Ma almeno abbiamo scoperto una cosa interessante Comunque ragazzi i salti stellari con la lama sono fortissimi eh Guardate un po' Guardate un po' quanto va in aria Uuuuh Oggi scopriamo cose Il video di oggi è No c'è gente qui Ok il video di oggi è costruttivo ragazzi Molto più costruttivo di quello che pensassi Allora arrivo eh Solo che qua c'è un po' di loot E volevo approfittarne Tu stai faietando proprio? No mi sto facendo il medico Ok Io li sento e mi se li ho visti pure Sì eccoli qui Ah mettiamoci in alto qua raga Questo era pure mezzo one shot Ok c'è uno laggiù Che nuota Gli ho rotto lo shield a terra Eh questo è fatticino Eh ma io vado sulla terra E erano verso di lei eh Sì no eh no Adesso sono verso di qua Cioè perlomeno a me segna sparì là Non so se tu avessi visto Altri avversari Ma raga Ma è fortissima sta cosa Cioè non la sapevo O no O no Ok uno glielo ho rubato Ok C'è anche l'altro compagno Che in mezzo a sti fiori È un po' difficile da faietare Ma li abbiamo bombati tutti Ok No sparano ancora Ma non credo ci convenga Andare verso di là Gente Sopra No qua Ah sì visti Quello davanti l'ho laserato C'ha il cecchino Attenta Bianco o quello rosso Ok Quell'altro col cecchino Gli avevo rotto lo shield Ma guarda Ma guarda te È incredibile La spada prende tutto Un altro valore Con Con salti stellari Che fa questo qua Mi droppava le armi Lol E che armi c'aveva Ma questo me lo piglio Prende tutto un altro valore La lama Non che non sia forte Anzi Sì la lama Già così non è per niente male Ma Ah ma proprio sopra di noi Però aspetta Ok Sono rimaste due fette di pizza Ho visto un dannato Ma è sceso? Ma? E l'ho visto Ah si è sceso Ok Un altro Ma è un altro team però Ma era un one shot Ma che ca... Ma che cosa ho appena visto? Non ci ho capito niente Ma va bene così Sparano ancora qui davanti Ok No oddio Ma questo stava tipo in mezzo ai fiori L'ho fatto prendere un colpo Stava sparando a questi qua sotto Vediamo se li piglio Non credo di averli presi Quello è one shot Ok Anche quello lì dietro Ma no Non voglio Mamma regà Lo sapete C'ho il tasto del ping Vicino ai balli Me lo devo cambiare Devo cambiare il tasto dei balli O il tasto del ping Devo cambiare uno dei due Che poi tra l'altro Come ballo principale C'ho il loser Quindi va bene Passo pure per un giocatore toxic Che non sono Allora aspetta un attimo Perché mo A parte zip Sì Ma voglio vedere una cosa Sì faccio così Così E così Ma vabbè no Non mi è sembrato niente di incredibile Forse sì Si va un po' più in alto Ma niente di che Questo poverino Sta prendendo il perk Non so se ci avete fatto caso Poverino ha preso il perk Che è stato laserato Va bene Allora Eh no E niente Va bene così ragazzi Andiamo magari verso il centro safe Che così Siamo più tranquilli Nel senso Nel senso che non dobbiamo star qui No con le ruote No con le ruote No Aspettate però devo calcolare La tempistica giusta Oppure prenderle direttamente così Mamma mia No regà È troppo divertente La sfada con C'è la katana Con salti stellari Ma mi sa che già faceva così Ai tempi dell'altra katana Di quando si trovava sia blu Che epica Ma non l'avevo mai fatta E ste cose O perlomeno non me lo ricordo E cioè io ho la memoria corta Non lo so Però vabbè Ok regà allora Sparano verso mega city Ah c'è proprio uno qua sotto Gli ho rubato la kill Raga poverino Mi sparava qualcun altro Da di là però Mi sparava qualcun altro ragazzi Infatti questo è andato a terra comunque Quindi C'è qualcun altro Attenzione Regà con questo Vediamo Vabbè Niente di che Però Si va sicuramente più In alto Allora Io ho preso l'aria Su 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 amore Cioè sto tipo A 600 km da Da terra E ti dico che sta arrivando Qualcuno qui Molto velocemente Quindi sto salendo Su questo tetto qua Che gli voglio Ah sono tre Sono un team da tre No bueno per noi Stanno entrando a mega city adesso Stanno Stanno C'è uno sta col cecchino Che l'ho atterrato Non so se stesse mirando te Ma non credo Perché tu sei qui Gli ho rotto l'uscita Quello sulla moto Bravissima E l'altro stava Qua sotto Io direi di fargli Una sorpresina Stava proprio qui Eccolo passi Infatti Ok Uh La coroncina Amico mio E anche quest'altro Let's go Questo raga Palesemente Il classico team Tra iardino Che poi sottovaluta La lobby Stavano così Tranquilli Uno era mezzo One shot Vabbè Però questo Mi ha fatto un po' di danni Sì succhetti L'ho presi anch'io Quindi se vuoi Prendili E La taglia sta di là E direi di andare Proprio verso la taglia Incredibilmente No più che altro Sì sì C'hanno anche il pump Mitico infatti No più che altro Andrei di qua Perché siamo anche in safe Sì esatto Esatto Credo sia proprio la taglia Non lo so Vabbè questo era un cucciolotto Quell'altro non lo so Sì mi sembra anche quello Ok perfetto amore E Ok Ma Ma lo sapranno arrestare Ma neanche l'avevo visto Quello Ma non l'avevo neanche visto Da te è uscito quel Dei Greg Vabbè Siamo in otto Siamo in otto Quindi potrebbe voler dire Due team da tre E noi soli soletti No E siamo quattro team invece Quindi vuol dire Che c'è un altro team Di uno da solo In duo Sì Morto Morto Come è morto Ah ok Infatti non capivo Ok Ok Allora Perfetto Questa è andata a terra Sì E infatti risparano ancora di qua Ci hanno preso la taglia Sì E chissà Ma che è me casinato Ah Nuotano Stavo per dire Camminano A terra E l'altro sta lì Però non l'ho più visto È andato tipo dietro i bambù Mi sa Però non andiamo troppo Perché poi siamo fuori safe Ok Eh mi sa che siamo Tre contro due E stanno lì No Due contro due Ok L'ho Gli ho fatto Un centinaio di danno Però non gli ho rotto lo shield Ecco l'altro Stava più sotto Stanno tutti e due lì Ok Direi che è arrivato al momento No Ah c'è una scopa Non è crackato? Sì Vabbè questo ragazzi L'abbiamo proprio pushato Come un'aquila Pusha la propria preda Quell'altro sta di là Ah ok rip Ci vedete Vi prendete il pump E gli planate in faccia Così ragazzi Devastante Ma adesso Dobbiamo andare a trollare qualcuno Lì dal boscato Speriamo Allora ragazzi Ho un problema Ho un problema Ho un problema Un po' di fiatone Perché Mentre partiva La partita Ha citofonato il corriere E quindi Proprio per questo motivo Stiamo atterrando un po' in ritardo E ovviamente Caso ha voluto Che Opulenza fosse La prima città Del viaggetto Del bus In realtà Il fatto di aver perso Questi secondi Potrebbe E infatti Questo fa la differenza Perché Prima arrivi E meglio è Oh mio dio Che pizza ragazzi Un tempismo incredibile Se non avessimo avuto la corona Avrei quittato Però abbiamo la corona Quindi Proviamo a portarcela a casa Oh no Eh Però è bianco Eh amore Io sono appena atterrato E non ho armi Ho preso due fucili adesso Eh Lui ovviamente Aveva le armi Aveva il pompa Mannaggia la miseria Allora Fermi tutti Eh raga Il problema è che Pur uccidendo tutti questi Adesso Diventa un attimino Problematico Perché Cioè Adesso ci devo atterrare Tutta sta gente A A opulenza Non ci vogliono Atterrare prima Mannaggia la miseria Allora Dobbiamo provare In tutti i modi adesso Arrestare Serena E poi A vedere Eh spero Siamo dentro Gli altri No e poi vedere Se riusciamo ad andare A prendere sto cavolo Di posto Come prima Lì da cado Porca miseria Ragazzi No Eh amore Se sopravvivo Sì Eh vabbè Ma già la miseria Oh Eh E mo Con 4 di vita Senza cure Mi sembra un po' Too much Qua la situazione Ah mi sta pushando Eh ragazzi miei Che sfiga però Niente regà Adesso che magari Come nella prima partita Mi sarebbe tornato comodo Che Eh opulenza Fosse la prima città Del taglio del bus Niente Ovviamente Niente Come minimo Non ci viene nessuno Oddio Allora C'è un po' di gente Anche questa volta Fortunatamente Io non ho capito Perché sto sparando Col pump bianco Quando ci avevo Ma non ho capito Ma quanto danno fa Questo bianco C'è Nulla C'è Non lo so Spara coriandoli Spara Ma ci stava lì a terra Gli stavo a far pochissimo Allora Ci abbiamo qualcosa Per spaccare Amore Tu te sei Dove stai Eh ma perché sei salita Eh perché stavo a cercare Nelle borse Che ha già uscito Razzarieta dalle borse Eh vabbè 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 Ma Chi se ne frega Sto riuscendo subito Ok Dobbiamo Allora no Questo è meglio Regale Granate Onda d'urto Però pure i medikit Regà Prima abbiamo visto Che potrebbero tornare utili Che magari resistiamo Ancora un po' Nella Nella Come cavolo si chiama Beh avete capito Nella tana di cato Nella tana di cato Dai che ce la facciamo A parlare Allora io sto già scendendo Ok Questa L'andiamo A Fermare così Io non ho shield Non ho nulla Ma va bene così Non me ne frega nulla Non apriamo Le chest Non apriamo nulla Ok grazie Ok regà Allora Un po' di gente ci sta Siamo anche in safe Questa volta No 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 Cato sta qua Aspetta 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 Dai Allora sta andando verso sinistra Quindi questa volta Magari andiamo verso destra Allora prendiamo Magari giusto adesso I cosi Mi vado a prendere Vabbè Questo per i colpi Allora Sta a sinistra Quindi vieni a destra È triggerato Da dei colpi Che stanno sparando Corri 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 Ok È ancora triggerato Ok Eh Dobbiamo sperare ragazzi Che stavolta qualcuno ci venga Se no è un disastro Mamma mia regà Guardate Cioè Sta arrivando proprio qui Sta arrivando Ok Adesso ho girato di là Ovviamente Eh però niente Ragazzi I team che sento E sparano sopra Non mi sembrano Proprio minimamente Interessati A scendere qua sotto Cioè Non mi sembrano Proprio minimamente Interessati A venire verso cato Cioè proprio Zero 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 Totale Stanno sopra A fightare Non so neanche se alcuni Stiano fightando direttamente Con i bot E neanche contro altri team E comunque Io prima ero convinto Che qualcuno fosse entrato Nei bunker Infatti poi come ha visto Anche Serena Hanno aperto le ceste È incredibile Che però poi Non gliene sia fregato nulla Di venire da cato Hanno attivato una telecamera Hanno attivato una telecamera Però Infatti Cato mi sa che Per un attimino ha corso Mi ha segnato i passi Troppo veloci Eh Ma sta sopra Non sta sotto Quello che è stato Pingato Il problema è quello È lui qua Che viene sempre qui vicino Ciao signor Cato Mamma mia Io prima ho avuto l'ansia Che mi vedesse C'avevo proprio un palmo Dal naso Nonostante fossi qua dietro Uh raga Poi proviamolo Non l'ho ancora provato Questo perk Va Proviamo a giocare Con questo pump A sto punto Eh io in realtà Dovrei curarmi Non credo attiricato Vediamo Oggi facciamo tutti questi esperimenti No ok Non l'ha triggerato minimamente Ok Eccolo qua ragazzi Adesso lo vediamo tipo In primo piano Che è lì Che soghigna Con la sua macchina del tempo Che tra l'altro Dovrebbe avere Altre versioni Che dovrebbero arrivare Nelle prossime settimane O comunque Nei prossimi giorni Parlo della macchina del tempo Ma per ora no Vabbè Eh niente Questi stanno ancora sopra Ok Si sta triggerando Sì si sentono vicini infatti Però non credo stiano qua sotto proprio eh Perché si è triggerato regà Forse perché sparano proprio qua sopra Perché se no non si spiega Non stanno qua No ok Si è ritranquillizzato E ci sono altri passi che non sono i suoi Si si perché gli stanno sparando qua sopra proprio Si Uh io ho first shotgun Prendete stiamo trasformando questo pump In devastante In hatchet può fare più di 200 E soprattutto raccoglie la vita Mi fa caricare la vita allo shield Quando hitto gli avversari Eh si mi sa se ne stanno andando comunque Che sfiga Oh comunque ragazzi Ogni volta in età fa ste challenge Che di solito non faccio neanche C'ho una sfiga incredibile Si c'è ancora uno pingato lì regà Ma è quello che rimane alto e basta Vabbè che il video doveva essere solo spiocato Per tot partiti o quello che è Però Cioè appunto almeno un team lo volevo trollare Ma così mi sa non va a finir bene eh Eh niente ragazzi Non siamo neanche nella prossima safe purtroppo Proviamo a rimanere di nuovo un po' con la tempesta che arriva Ma va bene Allora adesso voglio fare però un altro tentativo Ovvero adesso che si avvicina di nuovo qui Invece di stare accovacciato Prova a camminare Si è fermato Si sta triggerando Quindi anche coi passi comunque si triggera E però perché prima quando abbiamo corso Non si è triggerato Pure tu prima poi avevi corso Ok però Forse perché eravamo comunque lontani Guarda 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 Lo sto tenendo triggerato regà Non si calma più E se ti può sparo Aspetta vediamo fermo tu Se si sposta verso di me Ha girato lo sguardo Adesso però si è ritranquillizzato Prova a risparare Si è rigirato verso di me Ok però si è ritranquillizzato Se io adesso mi rimuovo Ok si è ritriggerato Ok si è girato verso di me Vediamo se cambia il giro Adesso l'ho fatto girare completamente Ok adesso mi rifermo Vediamo se continua il suo giro Eh si comunque riprende il suo giro classico Eh dovremmo vedere proprio se si gira completamente Perché io non lo vedevo girato completamente E' triggerato da me mi sa Si forse è che ti sei mossa un po' Ma comunque qua sopra Continuano a sparare Ma che ne so Vabbè io adesso direi di vedere nuovamente Dalla tempesta che succede Se animuore di nuovo Perché io vi ripetisco Prima non ho rivisto la registrazione Nella partita di prima Ma non so se è morto un po' prima Rispetto alla vita Cioè non gli è scesa del tutto Credo Tanto c'ho due medikit Ti amore Non so tu a cure di vita come sei messa Ma io due medikit ce l'ho Eh oddio le chiavi Vabbè mi prendo le chiavi per ora Vediamo allora Lui adesso sta per iniziare a prendere danno E su questo ok Ok Ovviamente anche noi iniziamo a prendere danno E su questo ovviamente non ci stanno dubbi Lui però comunque questa volta Questa volta però sta continuando a fare tutto normale Prima si era triggerato subito con la tempesta E si era tipo fermato Eh infatti adesso si è rifermato Quando arriva la macchina del tempo Si triggera con la tempesta Ma forse è programmato per fermarsi lì Sì forse quando arriva la tempesta E prende danno è programmato per fermarsi lì E stiamo scoprendo cose ragazzi sul boss Stiamo scoprendo cose sul boss Vediamo se questa volta rimuore Di nuovo un po' prima o no Ah mo tra poco ti do anche il medikit Ok sta con la vita mezza rossa No ma forse prima raga è morto normalmente Ma tu sai che anche a me una volta è capitato Che mi è sembrato che sia morto prima Ma lui adesso sta perdendo più vita però rispetto a prima Ah sì ecco perché Ecco Lui perde più vita poi ad un certo punto Ah ha lasciato una marea di me di nebbia Ha lasciato Ah tu sai Ma ti avevo dato un medikit amore Eh la sono andata però sono venuta di qua Non volevo sprecarlo subito Regà non avremo trollato nessun team Ma vi giuro è la prima volta che non mi riesce una challenge Cioè non è la prima volta che non mi riesce una challenge Nel senso è la prima volta che non mi riesce una challenge Programmata in un video E non mi rode Cioè e non sono arrabbiato Cioè chi se ne frega nel senso È stato comunque divertente vedere tutte queste cose del boss Cioè comunque è stato divertente Poi ci sono state una marea di altre challenge Che non siamo riusciti a portare a compimento Cioè non sto dicendo che non fallisco mai Non fallisco mai le mie challenge Anzi Anzi Spesso con la sfiga che abbiamo Non le possiamo proprio arrivare a completare Detto questo ragazzi Detto questo Facciamo fuori tutti i signori 201 in headshot Che bello Facciamo fuori tutti qua Io sto Ah no lì no Non abbiamo aperto da lì Provo ad andare Eh no Vabbè Ho attivato le cose Speravo con la spada di passare in mezzo Ma non ce l'ho fatta Eh Ma no amore Eh sì ho chiuso lì Eh chiuso me qui con la torretta Ma c'erano i medinebbia lì sotto però amore Perché non ti stai guardando Ce ne ho i medinebbia Però mi hai chiuso qui con la torretta Quindi prima mi dovevo aprire le sbarre Vai amore Piccona 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 tutto Allora dovremmo Dobbiamo arrivare a prendere il rift Se non l'hanno già preso in realtà No Di là Ok Dovrebbe essere No Dove è? Guarda di qua sono per la salita io Ok Vabbè Eeeh Ok Ok Eeeh Mi son preso comunque la La katana Andiamo verso la La safe Ci avremmo anche la La scorta Eh sì io lì ho piegato Sì direi che possiamo farcela la scorta Dai Ma ha sparato qualcuno Sì mi ha provato a sparare Mi ha provato a sparare qualcun altro Oh mio dio Non sto capendo Cioè sento spari di là E ok Ma non capisco chi possa aver sparato a noi Ah io nel dubbio quello lì l'ho laserato E l'ho anche atterrato Sì ce l'è dietro L'ho lisciato Raga non so quanto sia stata una buona idea per me prendere sto pump E lo sapete non è che riesca ad utilizzarlo alla grande E a questo punto andiamo da quelli lì va Andiamo da questi campioncini qua Che mi sembra stessero fai tanto di brutto Ah quello regà Ma sbaglio tipo un certo punto è andato tipo A rallentatore Allora via Mamma mia signori Ok spaccato Spaccato pure l'Itachi Ok ma c'è altra gente Che stanno anche fai dando tra loro Uno morto Sì Stanno da sinistra sull'isola Ma sparano anche qui davanti a me Io entro in safe E ti aspetto No Chi cos'è Chi è che Ma chi è che mi sta Zippa dietro di me Sì ho spaccato lo shield a uno qua sotto Ok Atterrati due Vorrei anche provare a finirli Perché non si sa mai Sì in realtà Eh ma no qua sopra però è fuori safe Volevo salire qua sopra Ma è fuori safe Quei due là sotto li ho uccisi Non so il terzo loro compagno dove fosse Sono solo e siamo in 14 E siamo dentro la giungla E non è mai cosa buona e giusta Sparano di un paio di qua Io stavo andando a vedere il lutto Perché sono qua le armi bianche dallo star Buono Buono Non male le armi bianche Not bad Qualcuno mi sa che c'è il perché della pesca No Eh sì ma qualcuno ha usato il coso di Todoroki qua Ma non ora Un po' di tempo fa E c'è un botto di gente qua Sì sì c'è un botto di gente qui Eccone uno E lo so Oh no era uno solo che è andato subito giù Sì no andiamo Eh planalo Tu non hai movement vero? Eh no c'ho l'effetto delle splescine però per adesso Ok cerco un attimino di tarli in volo Perché Quel team avrà un bel vantaggio su di noi A livello di posizionamento Sì ce l'abbiamo davanti Eh sì vedi Eccolo sì Ma in realtà è buono Pusciamolo E' buonissimo che sia venuto qui lui Dov'è? Eccolo L'ho spaccato Ok Ma regà questa è stata una fortuna incredibile Che siano venuti loro qui eh È stata proprio una fortuna pazzesca Che questo si sia mosso qui da solo Mi sape siamo due contro due Io direi che andiamo in safe Possiamo prendere la zip qua Noi eravamo Eh sì uno Sì qualcosa Siamo due contro uno Noi contro di lui Eccolo lì è un Vegeta L'ho spaccato 250 gli ho fatto Come non è morto? Gli ho fatto 250 Che c'ha l'effetto del succhetto credo Eh probabile Eh se no non si spiega Allora tralasciando il fatto che sto Vegeta C'aveva 19 kill amore Ah C'ha 19 kill Vediamo No però non mi No no Non c'aveva l'effetto del succhetto Non ce l'aveva l'effetto del succhetto Scusami allora Com'è che non è morto? Beh E quanto l'avevi lasciato? Con uno di vita tipo Cioè la tacchetta era minuscola Ma che cavolo? Cioè i succhetti in mano li aveva raga Però guardate Guardate Allora a parte il fatto che si vede Che non ha l'effetto del succhetto Se no rilava tutto Ma adesso quando l'ho lasciato one shot Con uno di vita Lui non stava recuperando vita Quindi c'aveva i succhi Ma non l'aveva ancora bevuti Va bene Allora so che dietro La vita di Fortnite Del gioco Ci sono anche poi quelli Che sono i numeri Insomma Leggermente dopo lo zero Prima dell'uno Quindi zero virgola E va bene Però se io gli faccio 250 di vita Cioè di danno Eh 250 di danno È la vita completa Che puoi avere full In no build Quindi comunque Ti ho fatto quel danno Cioè al massimo A me segna che ho fatto 249 Cioè io È come se avessi fatto 249 virgola E quindi è andato in eccesso E mi ha segnato Che ho fatto 250 Ma non ha senso Ma non lo so raga Non lo so Però so che ci sono stati Altri problemi e bug Da sto punto di vista Sul gioco Per colpa dei decimali Quindi dei numeri Quelli lì Con lo zero virgola Eccetera Però va bene Eh oggi cose strane Comunque Abbiamo scoperto I segreti di cato Ci sono state cose ambigue Durante i game Nessuno che viene a uccidere Il boss Mallutano il bunker Vabbè Detto questo ragazzi Mi raccomando Vi ricordo Il codice creatore GGY T tutto grande Tutto attaccato Il negozio oggetti Di fortnite Fondamentale per supportarmi Iscrivetevi al canale Se ancora non l'aveste fatto Lasciandomi il mi piace Per supportare il video Per noi tutti ci troviamo Domani con un prossimo video Qui sul mio canale Ciao ragazzuali Ciao ciao